In città ci sono quasi 5.000 persone in isolamento perché positive, solo una persona in terapia intensiva. I numeri parlano chiaro, la variante Omicron sta dilagando, i tracciamenti sono rallentati anche a causa della delibera che equipara i tamponi rapidi ai molecolari e spesso per chiudere la quarantena ci sono ritardi perché i tamponi negativi rapidi delle farmacie non arrivano in automatica alla ASL ed è quindi il cittadino che deve preoccuparsi di comunicarlo, ma i numeri sono spesso intasati dalla meridia di chiamate ricevute, il personale è estremato, questo è. Il picco potrebbe arrivare a fine gennaio, secondo le previsioni il 50% della popolazione potrebbe essere contagiate assieme alla vaccinazione, questo potrebbe determinare la famosa immunità di gregge. Quando sparirà la pandemia è difficile dirlo, ma diventerà certamente endemica e sarà trattata diversamente, lo dice la storia, ma per il dottor Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive, questa ipotesi si può fare considerando le stime passate, ma è ovviamente impossibile essere precisi. Non lo possiamo sapere, se dovessimo basarci sulle esperienze passate, calcolando diciamo che la massima di buffusione ci può essere stata tra Natale e soprattutto a Capodanno, bisogna calcolare poi due o tre settimane dopo, insomma. Quindi orientativamente ci aspettiamo intorno alla terza settimana di gennaio, questo potrebbero essere i calcoli teorici, poi la realtà può essere tutt'altro. Proprio questa mattina nel mio giro in reparto ai pazienti Covid ho potuto constatare che quelli che stanno peggio sono quelli non vaccinati, anche gente relativamente giovane. Quindi bisogna continuare ad immunizzarsi perché si è visto poi soprattutto coloro che hanno fatto tre dosi e non hanno grandi comorbidità, poi si sviluppano, sviluppano un contagio, ma una malattia molto lieve. Procedono anche le cure con antivirali e monoclonali che vanno bene, l'ospedale dell'Aquila procede con le cure, si cerca di assecondare tutte le richieste, ma il grande problema è quello della carenza personale. Al San Salvatore ci sono 100 persone, tra medici e infermieri, contagiati e questo rende la gestione del nosocomio davvero complicata. Stiamo andando con una certa regolarità, nel senso che raccogliamo le richieste e cerchiamo di esodirle. L'unica cosa che ci frena un po' in questo momento è una carenza di personale legata anche al fatto che alcuni nostri operatori sanitari si sono infettati col Covid fuori, ci tengo a dirlo, non dentro l'ospedale e quindi questa carenza di personale un po' ci limita. Grazie a tutti.